Gli immobili che sono stati attenzionati per questo intervento sono quelli che si trovano in via Pietronenni. Allora, già dallo scorso anno, dal 2022, con Arezzo Casa e tutti gli altri comuni della provincia di Arezzo avevamo attenzionato la questione per andare a fare un intervento di efficientamento e miglioramento energetico. Questo tramite l'utilizzo di fondi del Superbonus 110. Avevamo, con noi e altri quattro comuni, e poi alla fine avevano portato in fondo il procedimento, avevamo, come dire, approvato la delibera e adottato il protoglio di intesa in data 16 febbraio. Poi, il 17, come sapete, il 17 febbraio, gli incentivi per il Superbonus 110 sono venuti meno perché il governo non li ha voluti, appunto, riproporre, salvo poi rimodifire ancora la norma successivamente, ma non avevamo più i tempi per poter ancora una volta modificare la programmazione e quindi abbiamo dovuto, come dire, dal 17 febbraio modificare gli interventi da fare all'interno degli immobili di via Pietronenni. E qui abbiamo deciso di rifare le coperture dei due blocchi di immobili e con quest'anno inizieremo una parte degli interventi e l'anno successivo il restante blocco. Quest'anno sono stati, appunto, finanziati con il bilancio del Comune circa 125 mila euro e con quello di Arezzo Asa altri 25 mila euro per il primo tetto che verrà messo, diciamo, che subirà una manutenzione straordinaria, dove verrà tolto l'allucimento amianto, dove verranno rimesse le guaine e le coperture, mentre, appunto, per il prossimo anno intervenremo sul restante blocco dove, appunto, dovremo poi trovare le coperture di bilancio. Ma un impegno che ci siamo presi noi e la società è che intendiamo, appunto, questi due anni portare avanti.